La sicurezza stradale torna al centro delle discussioni dopo il recente caso del capriolo investito lungo la Fondovalle Verrino tra Agnone e Poggio Sannita, lo scontro tra il motociclista e l'animale selvatico comparso improvvisamente sulla strada, per l'uomo di 55 anni diversi traumi, le cure affidate ai sanitari del Veneziale di Sernia, mentre per il capriolo non c'è stato nulla da fare, è morto a causa dell'impatto. Un altro esemplare è stato investito tra Lucito e Petrella Tifernina, è riuscito a salvarsi grazie all'intervento dei veterinari, per fortuna nessuna grave conseguenza per l'automobilista, ma gli incidenti che vedono protagonisti gli animali selvatici non sono casi isolati in Molise, diverse le auto distrutte negli scorsi mesi a causa di scontri con cinghiali, proprio per questo motivo la regione Molise ha approvato uno schema di convenzione con la società Autostrade per l'Italia, un accordo relativo al controllo e contenimento della fauna selvatica su alcuni tratti del Basso Molise e intanto le associazioni animaliste tornano a proporre ulteriori soluzioni al problema. Si potrebbe seguire il modello nord-europeo, spiega Alessandro D'Alessio del coordinamento regionale dell'Associazione Protezioni Animali. Si tratta di costruire dei corridoi stradali dedicati interamente alla fauna selvatica. Gli animali sono abitudinari e una volta capito di non correre pericoli attraversando in quei punti, continuerebbero a spostarsi in quel modo, evitando così problemi agli automobilisti.